Massimo Ciri, Cortona Mix Festival, un libro, un'altra parte del mondo che racconta la storia di Aldino Togliatti, ecco intanto perché la scelta di raccontare questa storia e secondo lei questa vicenda umana così dolorosa, così lunga e così originale, cosa ci può insegnare? Io sono rimasto affascinato dalla vita di quest'uomo che si becca tutte le cose brutte nel Novecento, il mondo diviso, lo scontro ideologico, l'essere figlio di comunisti quando è una cosa pesante e che poi finisce ricoverato di fatto in una clinica psichiatrica per 31 anni e quindi non può usufruire di una delle cose belle del Novecento, la legge Basaglia per esempio l'idea che se anche si è molto matti si può essere curati rimanendo nella società civile e non chiusi in un posto chiuso e quindi credo che l'insegnamento sia quello di quanto le vite siano complicate e la cosa che mi preme di più di quanto ci sia il diritto di essere curati senza essere rinchiusi sempre. Sono giorni questi anni in cui rinchiudere le persone sta diventando un po' di moda, basti pensare a quelli che arrivano da lontano e non si sa dove metterli e quando si rinchiudono le persone, le persone perdono dignità e per esempio salute mentale e dignità sono parenti strette.